Era un soggetto irruento che da tempo imperversava per le strade di Vibomarina, commettendo atti intimidatori e reati contro il patrimonio, incurante delle regole imposte dai codici dell'Andrangheta e soprattutto senza il placet della consorteria dei tripodi di Portosalvo. Il 21enne pregiudicato Francesco Covato era un cane sciolto che andava fermato. Di lui non si avevano più notizie dalla sera del 23 gennaio del 1990, quando il giovane lasciò in auto la sua abitazione di Vibomarina senza fare più ritorno. Le ricerche delle forze dell'ordine avviate a seguito della denuncia del padre portarono al solo rinvenimento della sua automobile trovata nel parcheggio della stazione ferroviaria di Tropea. Da allora del ragazzo nessuna traccia. A far luce dopo oltre 30 anni su quel caso di Lupara Bianca, la procura distrettuale antimafia di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri, che ha coordinato la laboriosa attività investigativa dei carabinieri di Vibbo, stringendo il cerchio sul presunto responsabile, il 57enne Nazareno Colace, pluripregiudicato contigo alla consorteria dei Tripodi Mantino e già arrestato nel 2016 nell'operazione Costa Pulita. La sentenza di morte per Covato sarebbe quindi maturata in un contesto di affermazione del potere criminale da parte della famiglia Tripodi e gemone nel territorio di Vibomarina Portosalvo, ma anche per vendetta personale. Colace avrebbe ucciso il giovane e occultato il suo corpo per vendicarsi di un agguato subito da Covato nel 1987, quando fu investito da una pioggia di proiettili mentre percorreva la strada statale litoranea per Tropea. I carabinieri di Vibbo Valencia gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP di Catanzaro su richiesta dei sostituti procuratori Antonio De Bernardo e Andrea Mancuso. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Vibbo al termine di una prolungata attività di localizzazione. Colace era infatti solito muoversi frequentemente al di fuori della Calabria, ma una volta localizzato a Portosalvo, i militari hanno circondato la sua abitazione e lo hanno sorpreso nel sonno.